La FIDAS festeggia 40 anni insieme a un esercito di volontari. Qualche dato sui traguardi raggiunti. Nel 2021, nonostante il Covid, sono state i 13.716 le donazioni, nel 2022 13.852. Quando siamo nati non c'era il sangue, c'era una grande carenza di sangue. Lo zero positivo arrivava dalla Lombardia col treno, per cui oggi pensare che siamo arrivati così tanti e che siamo autosufficienti sia per questo ospedale, nonostante i reparti che abbiamo, l'ematologia, l'oncologia e tanti altri reparti, perché anche per le persone anziane devono fare le trasfusioni continuamente e possiamo dire che siamo veramente soddisfatti. Però non basta, perché adesso cominciamo a lavorare molto sui giovani, perché i giovani sono i donatori futuri. Infatti lavoriamo molto nelle scuole, facciamo il concorso scolastico e l'obiettivo mio, quello del direttivo, è quello di lavorare soprattutto per i giovani, per un futuro migliore anche per questa città, perché è un bene per tutti. Martedì 18 luglio, dalle ore 21 al Teatro d'Annunzio, ci sarà uno spettacolo con il cantante Michele Zarrillo, l'attrice Violante Placido e il comico Dado. Regie e direzione artistica della serata di gala sono di Davide Cavuti, condurrà la giornalista Mila Cantagallo. Beh, in Italia abbiamo una carenza di circa il 30% di plasma derivati, non siamo ancora autosufficienti e l'Abruzzo praticamente rispecchia la stessa carenza. Anche se negli ultimi anni, in controtendenza a quelli che sono i dati nazionali, abbiamo avuto un aumento nelle donazioni proprio specifiche di plasma. Questo ci fa sperare che le cose possano migliorare, ma sicuramente il lavoro da fare è ancora tantissimo, perché la carenza è ancora importante. Martedì 18 luglio ci sarà anche un convegno all'Auditorium Petruzzi su plasma produzione e a che punto siamo. Una riflessione su tutte. Il plasma insieme all'acqua potabile, alle fonti di energia e ai metalli rari è considerato una delle risorse strategiche mondiali per il prossimo decennio. Tra i relatori, Vincenzo De Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue, Pasquale Colamartino, direttore Centro Regionale Sangue Abruzzo, Oliver Schmidt, amministratore delegato CSL Beering e Giovanni Musso, Presidente Nazionale FIDAS.